Per parlare di questo progetto, del progetto Kairos, parto da un'affermazione di una mia collega, una mia collega che lavora a New York, alla Columbia University, e che mi ha sempre colpito moltissimo. Lei dice che non esiste nell'ambito umano nessun avvenimento che racchiuda la promessa di una felicità come la nascita di un figlio. Io penso che questo sia assolutamente condivisibile, però ci sono delle situazioni rare, ma ci sono, in cui i bambini che le mamme portano in grembo sono portatori di malattie anche che possono condizionare una vita futura, ma soprattutto anche che sono incompatibili con la vita. E allora di questi bambini cosa facciamo? Se quello è l'evento più bello c'è una grande contraddizione. E quindi questa storia che vi voglio raccontare nasce proprio da un'esperienza che abbiamo vissuto, che abbiamo vissuto qui in poliambulanza, a cui ne sono seguite delle altre simili, e che riguarda appunto la nascita di Matilde, affetta da una malattia, da una sindrome non compatibile con la vita, e che i genitori volevano portare avanti. Perché io credo che non ci sia nessun atto più umano di quello, anche se è estremamente doloroso, di quello di stare vicino ai propri cari, che siano anziani o superanziani, o anche il tuo piccolo bambino, che non ha la possibilità di sopravvivere. E quindi proprio alla luce di questa storia e della disponibilità che tutto il mio reparto, i miei medici, le mie inferniere, le ausiliarie, la nostra psicologa, tutti si sono resi disponibili a seguire, a seguire nelle ore in cui questa bambina è sopravvissuta, a seguire la famiglia, a facilitare il fatto che i parenti di questa bambina potessero entrare in reparto e stare in una stanza che gli era stata riservata, e di accompagnare questi genitori e questo fratellino, la loro bimba e sorella, perché credo che questo sia l'atto più umano che noi possiamo fare. E questo in me ha messo in luce una cosa in particolare, ho capito ancora di più che alla fine noi siamo degli strumenti, noi operatori, che abbiamo la possibilità di avere elevatissime tecnologie, però alla fine non siamo noi che diamo la vita o la togliamo. Noi dobbiamo anche avere l'intelligenza in certe situazioni di accompagnare questi genitori, anche evitando per esempio l'accanimento, oppure accompagnarli con il loro bambino e rendere le ore in cui il loro bambino sarà presente su questa terra le più liete possibili, perché sono convinto che la qualità della vita non si possa ridurre solo in termini di giorni, mesi o anni, ma proprio in una qualità, in una qualità del fatto che tu sei vicino al tuo bambino. Grazie Grazie